Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui insieme a mio cugino no, a mio cugino, eventualmente lo faccio tutte le volte che mi sono imbrogliato il mio cugino siamo con Mauro sono tornato su Mario Bros comunque facciamo il primo diciamo, video con mio cugino adesso lo faremo con Mauro lo farò con Mauro che hai fatto? io mi prendo Todd ma non è perché c'è più vita perché è più figo di tutti a lui piace tanto è buggato comunque dobbiamo andare dobbiamo finire il mondo uno non è che è buggato perché sono io che sono troppo pronto tu lo sai che forse ho scoperto che con Todd si va più veloce si lo so ragazzi comunque facciamo no, l'uno quattro che pizza io odio il volo in acqua anche io ragazzi perché non puoi né prendere i superpoteri non puoi fare niente comunque staremo insieme aspetta, voglio prendere tutte le monete staremo insieme no, non sono entrato sono morto è già morto aspetta prenditelo prenditelo due prendi due tanto mi piace sta canzone io odio quelli verdi aspetta, vieni qua ma dobbiamo fare tutto completo tutte le stelle se ci riusciamo è meglio ragazzi vieni qua aspetta dobbiamo andare qua dentro lascia, lascia vai vai sei andato vai vai eh ma sono morto non c'è la mano quasi quasi con le gioco delle monete vediamo quasi fai col fuoco ti danno le monete forse non lo so dai io oh là dobbiamo andare dov'è che dobbiamo andare da qui penso aspetta no, no, non va non va andiamo andiamo no, vada, vada vada aspetta aspetta non mi prenderemo mai il fungo della bandiera aspettate ah, c'è anche là un potenziamento sta anche qua no, non c'è ma il potenziamento si e i funghi sono no, c'è un potenziamento però dipende da chi la prende aspetta qua lo voglio prendere poi io lo so eh, lo so che ragazzi abbiamo preso la prima moneta spero che il video vi piaccia andiamo andiamo aspetta mi sai che qua c'è la stella no? si, lo so e ci provo ad andare no, no, devi congela un pesce aspetta faccio io congela, congela veloce fai così si provi si, lo so no, ragazzi posso eccomi fatto e adesso qua ragazzi ma io sicuro ci manca vai no, ragazzi non l'ho preso non l'ho preso oh, ma che è questa si, ci chiamaci comunque ragazzi oggi finiremo il mondo 1 forse si forse si ecco mi sono sacrificato per te ok ragazzi abbiamo finito questo livello scrivete nei commenti se volete la serie di Kirby nel posto di questa no, io non la voglio proprio Kirby mi piace proprio ragazzi comunque consigliateci nei commenti anche altri giochi che volete non solo Kirby solo che a me piace Kirby infatti se Marco lo sa io l'ho completato al 100% eh, io non l'ho completato cioè sono arrivato all'ultimo mondo però andiamo a comprare io senza vedere nel video né niente nemmeno io però cioè non voglio finirlo tutto sono arrivato fino alla Fenice e basta la Fenice si la Fenice di Fuoco Aldrago 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 si Aldrago Aldrago si si comunque stiamo diciamo vincendo stiamo vincendo no andiamo sotto tutti i livelli andiamo 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 ma li facciamo tutti o saltiamo anche facciamo anche quello di sotto dopo si dopo facciamo anche quello di sotto ragazzi sto rivelando anche perché è abbastanza difficile no no sbagliato si ma si aspetta attento no volevo fuggere più no si sbola mi sa che abbiamo perso la prima scala del livello tu dici si perché bisogna fare come aspetta bravo vedi secondo perché perché la due si serve l'erica ok ragazzi dopo ok bello che fai l'ho fatta a posto ragazzi adesso non prendo io aspetta vedi basta ecco guarda che adesso aspetta tu non sai come si lascia fare a me la bandierina no scusami ragazzi oddio aspetta si prova ah no vado io aspetta vai preso no fai togliti aspetta in prof andiamo che cosa ma non c'è niente ah ragazzi ha la dura vita di super mario aspetta oddio guarda dove sono fermo fermo aspetta che forse ci prendiamo qualcosa merda no mi suicidio mi suicidio non mi ero più è malina vogliamo tutte e due voglio stare da solo ecco ecco fat eh voglio stare da solo hello mother fucker niente facciamo lo di giuva eh stiamo già a una bandierina aspetta ah è vero fai uno vabbè ragazzi dai no no fai uno ci mettevamo un fungo chi se ne frega ragazzi io voglio andare così voglio andare così oh che ho fatto no fermo fermo sei piccoloso piccoloso è che palle no volevo prendere il cerchio ma non vuoi se ne vado a volte si è provato no mamma mia che coca buona azione no aspetta fammi prendere una nap fermo facciamo insieme no guarda come si fa oh il pro ragazzi il pro no non mi ha fatto arrivare comunque ragazzi meno male che non ha perso la vita se no ok siamo al castello comunque faremo anche il mondo di sotto adesso facciamo prima il mondo di sotto certo certo dai dai fai anche io quel fungo che ci prendiamo prima un po' di cose vabbè dopo adesso dopo andiamo al castello ragazzi dopo facciamo il fungo e andiamo al castello lasciami aspetta aspetta non c'è una cosa togliti no no fermo ma che sei pazzo togliti 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 vai vado perché perché questa è ah che culo magnifico no che fai aspetta vai quasi bisogna fare così guarda no merda non ci arrivo fermo guarda fermo così guarda ferma tocca a me faccio io faccio io ok ragazzi abbiamo fatto qua c'è una pianta corriamo adesso però facciamo veloce che sta durando assai il video sono tre minuti no vai 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 giù adesso corri fino a quando non ti si spegne il cuore no sto morendo no a me me la dovevi far spendere tanto non è lì oh no mother oh sto morendo ok vai mi devi aiutare oh merda questo colorio che ti ho fatto capire io vai 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 corri corri che ormai abbiamo finito anche questo livello eh no maledetti bomba oddio aspetta non sto capendo niente aspetta 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 il pulsantino mai non ci arrivo oh ma mi andai hello mother fucker hello mother fucker aspetta 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 no fermo resta da sopra ancora ok vai mi sono male oh aspetta fermo qua voglio fare il trucco dai qua si fa il trucco della capriola lo sai si lo so perché l'hai fatto vabbè così ragazzi andiamo al fungo adesso adesso andiamo al fungo ragazzi uno ciascuno eh si cacchero col gomma dobbiamo fare attenzione anche alla gamba vai 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 no vai vai ok possiamo entrare tu vai fuori pezzo di merda possiamo entrare e adesso scoppio inizio io io so ah no inizio tutto il pane questo mi sta simpatico oh no dai non andare vicino là come vicino là c'è sicuro buzzer là aspetta vado non so il giugno di merda eh no ragazzi ma se sei in io quello dovevo fare eccolo se voglio un altro uguale faccio il fungo no un'altra a fianco prendevamo l'elica ragazzi vediamo fai uno che c'hai niente metti già un mini fungo mia vabbè comunque ragazzi facciamo questo velocemente e poi facciamo l'ultimo livello facciamo fermo oh mi fai morire oh nooo mi hai fatto morire io non ho fatto niente bastardo pista o lei pista solo io ah ok siamo arrivati nel diciamo ultimo livello del numero uno si poi andremo a mondo due che si faranno il cosmo di odio ahahah guarda non lo sapevano non lo sapevano non lo sapevano io non lo sapevo non ricominciare a prendermi a buttarmi nella lava per favore no non ti faccio niente no no bolla bolla la bolla mi sembra il culo quando la fai aspetta aspetta qua c'è un segreto lo so che bisogna però è difficile ecco eh però mi sembra che non è qua si che è qua no ma vado vado io vado io oddio che ho fatto qua è mi sembra si qui qui vado 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 io adesso muoio male no no non morire resta su ok Erika no dai però fammene prendere ok qua che sta una vita ciascuno aia non entrare nel tubo c'è la vita c'è la vita lì no c'è la vita c'è la vita non lo sapevo vabbè dai continuiamo poi non può mai cadere non ti può mai morire no oh merda no 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 cavolo volevo provare ad andare tutto porca puttana aiuto aah vatte scappa dove cacchio vai io vado sopra no no maledetti corri no non ci arrivo perché ci arrivo passano dai anche a me eh tu sai un ball tu sai un ball era uno lo so però eeeh che vuole eeeh porca luella ragazzi siamo quasi al termine del livello eeeh madonna qua ti deve abbassare vabbè tu sei già piccolo eeeh perchè non succede niente anzi aspetta si lo so e perchè tu vai sopra questi crone cosi eeeh scappa eeeh scappa qual'è il tubo scappa comunque siamo arrivati al castello eeeh prendilo aspetta trucchetto che non sapevo aspetta ancora un po' c'è qualcuno no dobbiamo continuare dobbiamo continuare dobbiamo continuare aia ho azzoppata qualcos'era ahah comunque ragazzi vai fermo che andrei io qua avanti voglio fare il trucco ok possiamo eeeh sconfiggiamo balla di fuoco a poline già anzi no non facciamo sapere non faccio non faccio niente sconfiggiamo questo sceme e andiamo al secondo mondo e poi il secondo mondo faremo il prossimo episodio guardi qua parto scappa aspetta aspetta questo è facile se nemmeno infatti ragazzi basta che devi andare con il cuore no maledetto al volo aspetta aspetta aah no merda non ho calcolato tutto comunque voglio prenderla io comunque ragazzi abbiamo vinto l'ho presa io e che fa? eh vuoltre dunque ci vediamo al prossimo video eeeh ciao ragazzi e spero che vi piaccia il video ciao ragazzi iscrivetevi e commentate ciao ragazzi e mettete mi piace come un ciao 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 ciao